Parrocchio dello Spirito Santo a Benevento. Da decenni risulta essere troppo piccola l'attuale chiesetta, contrada a Pezzapiana, praticamente a rione e ferrovia. E da anni per questo i parroci stanno cercando di costruire un nuovo complesso parrocchiale. Ora la svolta. Sarà infatti presentata domani la relazione scritta anche grazie al contributo, idee e sogni dei parrocchiani. Lavori di presentazione ai quali parteciperanno l'Arcivescovo di Benevento Felicia Croc, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l'edilizia di culto della CEI, Don Valerio Pennasso, l'ingegnere Marco Riso, che ha curato la relazione, e il parroco Don Maurizio Sperandeo. Ho sei mesi di lavoro per ascoltare la base, perché la chiesa non può essere, come si dice in gergo, una cattedrale nel deserto. Tutto vogliamo, meno che questo. Noi vogliamo che invece le persone possano esprimersi e quindi dal basso si possono ricevere tanti messaggi, anche dai bambini sono venute queste indicazioni importanti. Al centro di quello che sarà il nuovo complesso, l'aggregazione, spazi per i giovani. Il senso di questa chiesa è innanzitutto di essere un polo di aggregazione. Come dicevo prima, ci sono 5.000 fedeli cristiani che sono distribuiti su una superficie di 70 km2. Il complesso parrocchiale prevede un salone per la rappresentazione di film, per il teatro e poi altri spazi per lo sport.